Bene, si parte subito, non perdiamo tempo Ciao Vic, ciao Fede, ciao ragazzi Ciao, ciao, ciao Ciao, ciao Come state? Bene, 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 bene Si va avanti Si va avanti Si va avanti sempre Ok, aspetta che anche qui c'è Ah, per cavo stretto è ringalluzzito Allora, innanzitutto, come ogni settimana vi chiedo se avete fatto delle visioni interessanti in questo periodo Ah no, in questo periodo, queste due settimane perché non vi vedo da due settimane in realtà Ma ho visto tante cose Al cinema poco perché purtroppo a Livorno non arriva niente Cioè, a Livorno abbiamo due sale quindi per 200 mila persone c'è sempre i soliti due film non sono riuscito ad andare a vedere quella trasciata dei Renfield e ne sono molto, molto, molto scontento Eh, anche io nemmeno io sono riuscito perché Mi fa male questo perché una cosa così andava vista per forza al cinema perché la roba anni Ottanta sembrava che guardavo io Ma non arriva proprio, dici? No, qui a Livorno se ne vede l'ombra è veramente difficile, c'è i soliti due film quindi ho visto tanto un video perché al cinema c'è un cavolo e purtroppo col tempo è poco e sicché ho visto La Notte Fantasma un film italiano molto, molto buono ho visto Sea Chef, una commedia francese interessante Ah sì, quella l'ho presente, l'ho vista ero in zona, poi mi sono sbombolato di tutta questa roba qui mi è arrivato Blu-ray di Touch of Zen quindi via giù anche di Touch of Zen mi sono un po' sbombolato di questa roba qui è roba nuova che è uscita normalmente mi sono rivisto di Season 2 Live che ho preso Blu-ray i Guerrieri della Notte l'avevo già visto al cinema, è meraviglioso poi ho visto Guerrieri della Notte ancora 48 ore, 48 ore tutto in 4K mi sono risfondato quelle e poi tante novità ecco The Warriors in Blu-ray mi manca è uscito lo steelbook ho visto Rimini che è bellissimo ho visto Wildman che è bellissimo ne ho visti tanti nuovi, interessanti anche italiani che stanno uscendo che sono tipo le otto montagne roba che rimane lì che non riesci a vedere perché non arriva mi è piaciuto le otto montagne Fede? Fede è un po' lunghino ci ammazza un po' i tempi potevano essere non è un film perfetto però perlomeno per essere in Italia è un film coraggioso d'accordo, molto figo secondo me mi è piaciuto molto però dico, è vero che è lungo però non mi ha pesato a me non è che però produttivamente, ripeto al di là della qualità evidentemente già non stanno in sala per due ore e quaranta il film di Marti Scorsese cioè cercare di levare di levare un po' di tempo anche se magari l'opera mi rendo conto però secondo me commercialmente avrebbe avuto più possibilità questa cosa che ho detto per roba grossa anche come freakout che poteva durare un pochino meno è gonfio e la gente magari ciao Davide ciao ciao ragazzi tra l'altro ho visto tutto bene stava parlando di robe che abbiamo visto in questi giorni si si ho seguito ho seguito ho fatto una corsa ma ci sono grazie mille Davide e niente ho visto che Halo ha stroncato Killers of the Flower Moon quindi sarà un successo questo episodio non vedo l'ora successo forse il livello del film è alto guarda io non riesco a ricordare un singolo film di Scorsese che si possa definire brutto al massimo alcuni sottotono io sto facendo la monografia la sto girando per questi giorni visto è arrivato di 30 film ho girato una decina quindi sei impegnato per i prossimi 40 anni sì no 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 la girerò in due giorni mi metto lì tanto alla fine mi viene fuori 18 ore di girato e lo porterò a 4 cioè perché sennò bellissimo perché sono arrivato a un certo tipo di conclusione ormai dopo tutti questi anni si è ok farvi durare video 4-5 ore non è un problema ma 15 cioè non lo guarda nessuno alla fine lo faccio per me e quindi tutti mi dicono dividono 15 parti non sono fatto così è un'opera unica la mia e si fa pupata tutta le fila e questo secondo me se fai 15 ore te lo guardano lo stesso lo so ma non ho voglia io di montare 15 ore cioè quando l'ascolto mi annoio io cioè quindi veramente sta devi soddisfare te alla fine quindi cioè preferisco dedicare anche 15 10 minuti a film che non è poco comunque se sei da solo non stai facendo una discussione io poi non mi preparo niente quindi andando a diritto è facile parlare per 50 minuti un'ora di un film e poi renditi conto che poi le monti se fai una live sai che non te ne accorgi molto delle ripetizioni invece quando registri e monti a un certo punto ragazzo l'ho detto 5 volte questa cosa ti rendi conto che da recensione è diventata una seduta di auto psicanale mi faccio tutte le seghe mentali mie e poi faccio discorsi che magari capisco io e 7 miei amici poi me ne accorgo dopo quando lo monto perché io parto con la mia moglie e mi guarda e che lei capisce che andrò a finire da qualche parte forse tenta di fermarti no perché io poi quando monto la cosa questa è una stronzata ma anche le carte quando monto una cosa poi gli devo dare io il senso perché io mi rendo conto che dopo dopo i 40 minuti nella quale tiro fuori 7 cioè non mi rendo conto che ho parlato anche di tutt'altro del tempo della politica e quindi cerco in un certo senso visto che devo rimanere in un certo tempo e parlare di quelle cose lì di limitarle perché se no alla fine c'è di 20 minuti c'è 7 minuti di firma e 13 minuti di io che parlo di altre cose come del resto succederà oggi ragazzi lo squalo grandissimo film torniamo al discorso lo squalo lo squalo lo squalo allora io faccio questa piccola questa piccola traduzione è lo squalo perché ho deciso di parlare dello squalo innanzitutto per parlare di Spielberg che comunque è uno dei registi se non il regista più conosciuto al mondo è uno dei registi che ha cambiato l'industria hollywoodiana per sempre per certi versi in meglio per certi versi in peggio a mio parere però soprattutto ha fatto questo film che è un'opera prima in un certo senso non di Spielberg ovviamente però è un'opera prima ma per un certo genere di film che poi è stato ripreso da tantissimi altri registi e generazioni intere di registi e che è arrivato fino ai giorni nostri perché film con l'animalone che minaccia una piccola cittadina una grande cittadina o tutto il mondo addirittura beh se ne sono stati se ne sono stati fatti veramente migliaia abbiamo avuto anche Cocaine Orso ultimamente che è un po' lo stesso principio certo non era fatto di cocaina lo squalo di Spielberg ma era uno squalo un po' più grosso e feroce degli altri gli mancava solo quello gli mancava solo quello si poi mangiava bombole di gas esatto era quasi sovrannaturale comunque si quasi divino faceva presenza cioè era una presenza era quasi un pre slasher ma invece di esserci Michael c'era lo squalo ma poi c'era anche ma la genialità del film è che non lo vedi lo squalo per tutto il film non lo vedi a me piace molto perché è un film molto nuova Hollywood perché innanzitutto è del 75 quindi siamo proprio in pieno di nuova Hollywood ma quello che mi piace è che come ogni film maledetto della nuova Hollywood si è creato questo film pieno di di pathos di ansia da parte dello spettatore perché uno non si vede mai lo squalo ma non si vede soprattutto perché l'animatrone ebbe un sacco di problemi si ossidò acqua salata dentro affondò insomma un problema dopo l'altro e doveva essere la star del film in realtà poi la star del film sono gli eroi che lo vanno a cacciare che sono poi persone comuni tra virgolette sì ne sanno un po' di più delle altre persone di squali eccetera però sono persone normali che vanno a caccia di un mostro fondamentalmente invece la star di un'inquadratura che abbiamo visto nella gamma di Victor è la Svet che sa è la Svet esatto è la Svet no ma tra l'altro secondo me non è tanto diverso da quello che feceri delle Scott con Alien qualche tempo dopo sono d'accordo il genere è completamente differente magari l'oxenomorfo si vedeva leggermente di più perché comunque si vedeva il facehug si vedeva anche quello che viene chiamato chessbusters però comunque alla fine l'oxenomorfo fatto e finito lo vedevi per lo più negli ultimi minuti quindi alla fine è secondo me la forza della suggestione bisogna dare anche in parte anche gli uccelli no? sì gli uccelli molti scocchiano però gli uccelli secondo me usa la tensione cioè del fermo cioè dell'uccello fermo quando si posano sopra la riusa tutta però in realtà in un certo senso a livello dell'angoscia che vuole mettere lo vedo più vicino al bacio della pantera perché non ti mostra mai un cazzo e quindi in realtà non la vedi mai sta pantera cioè vedi sempre quest'ombra questo quindi tornare in quel senso lì anche nell'idea del primo salto costruito magnificamente con la narrazione lei che cammina la musica che scende poi i primi piani dei passi poi la fermata si ferma lì poi taglio di luce poi boom passa l'autobus che ti senti male cioè è una costruzione che fa anche lui con lo squalo sì è quasi la musica lo squalo la cosa bella poi c'è la colonna sonora che è praticamente è Bernard Herrmann rifatto cioè praticamente è psycho nell'acqua sì che c'è tutta una questione che Spielberg essendo come si capisce anche da Fabulism un amante vero del cinema cioè come tutti i grandi registi ruva ruva e giustamente riforma quindi la nuova Hollywood con tutte queste idee lui che veniva comunque da duel da film aveva una libertà che in realtà forse non gli saprei almeno stata data cioè lui aveva questa libertà perché la nuova Hollywood ha fatto lo squalo probabilmente ora non ti farebbero fare nemmeno lo squalo cioè in quel senso quindi se si nota poi infatti come il brand a lui sia poco interessato visto che in realtà era un film quasi su commissione quindi c'è un film che non gliene fregava quasi un cazzo che è diventato invece il sinonimo di blockbuster per eccellenza è incredibile infatti si nota la mediocrità sempre più devastante dei sequel non è fregato un cazzo a nessuno del pubblico né dei film senza dimenticare che forse è migliore dell'ultimo squalo lo vedi al cinema in 3D lo vedi in 3D al cinema quello c'era Dennis Quaid il protagonista il 3D era anche divertente però c'è la storia al tubone sai cos'è Fede che secondo me è un po' come il discorso dell'altra volta sui film di Cronenberg cioè devi essere veramente un gran regista per creare un film basato su uno squalo assassino per quello sì anche perché l'animalone è la cosa da gestire nel film dell'animalone siccome solitamente tranne negli ultimi tempi chiamano di più mostrare specialmente in quel periodo negli anni 80 un regista doveva gestirlo molto bene l'effetto speciale doveva gestire soprattutto quindi i personaggi che non si dovevano dimenticare quello che in realtà cambiava dallo squalo al di là della regia che è di Spielberg che tecnicamente era avanti c'è proprio delle cose molto interessanti a livello proprio tecnico e di innovazione ma è proprio una questione di messaggio di come era libero ripeto perché poi si torna alla libertà cioè il problema è che ormai se noi pensiamo agli squali film degli squali ok si pensa in realtà io volevo fare un video sui video faccio tutto una saga tutti gli squali cioè quando ho iniziato a guardare quanti film dopo lo squalo hanno fatto sugli squali mi è passata la voglia primo quanto è stato influente cioè parliamo ci saranno 400 film di squali di cui se ne salvano ah mamma mia Gruel Joe è lì in DVD che sta lì che mi guarda meravigliosamente che ruba i pezzi dallo squalo 2 è il mio idolo in quel senso ma però il più bello squalo dopo squalo è l'ultimo squalo di Castellari che è uscito pochissimo dopo che è fatto benissimo alla storia identica però è fatto forse meglio di quello di Spielberg ed è una cosa inquietante questa perché è stato fatto condolire fu denunciato dall'universale mi pare e fu fatto uscire via dai cinema perché era uguale per plagio era un plagio esatto per plagio invece il film è una bomba perché i film di squali poi a un certo punto non hanno avuto quella voglia di costruire i personaggi appunto di cui iniziavo a parlare prima non costruiscono più quello che Cigar ma in realtà poi è Richard Dreyfus che viene che studia gli squali è il cacciatore come vi ricordo io la scena che mi ha flashato di quel film e che mi ricordo da bambino la prima volta da ragazzino al cinema tipo dei Salesiani queste cose qui che ti ricordi perché avrò avuto 9-10 anni prima oltre al fatto che praticamente tutti i bimbetti del mondo a quel punto andare in mare era paura e tutti ci dicevano guarda il Mediterraneo via al massimo dai una perata te allo squalo cioè quindi vabbè però la paura del mare tutte queste cazzo del bosone di Livorno quindi c'è il mare lì e tutto quello che però in realtà poi la scena terrificante era questo squalo questo coso non lo so che era il racconto ecco quando lo rividi del capitano che racconta la vera storia di lui che vengono mangiati tutti dagli squali ve lo ricordate quando parlano le tre di notte cazzo sono nella stanzina parlano e lui si racconta del film che poi hanno fatto Nicolas Cage che è inconcepibile appunto sulla nave e io mi ricordo che la mia sensazione fu talmente forte e quando lo rividi la seconda volta ero convinto che quella scena ci fosse non so come farvi presente guardo il film ma dove l'hanno tagliata perché non si vede un cazzo cioè perché in realtà questo attore magnifico ha talmente fatto prendere nel racconto che poi la seconda volta ero convinto ci fossero quelle scene ricordo che dicemmo una cosa del genere con Rosemary's Baby sul finale si uguale gli occhi che vedi il mostro che non c'è ma è quello che dicevo prima la suggestione totale della scena è quella scena lì che se non metti monta gli squali come qualcosa di male puro perché lui ti racconta quella cosa lì della nave proprio come fossero sono terribili stronzi e infami di natura gli squali cosa che poi non è assolutamente assolutamente un cazzo vera in quel senso scappano più di quello che si pensa però nel film ha detto bene Davide e lì si parla di un certo tipo di male e l'idiozia della politica in un certo senso perché questo fa aprire tutto e su quello poi hanno copiato tutti e la bellezza dello squalo 2 ci rido sempre al Braschi e alla mia moglie perché hanno rieletto il solito sindaco però lo sceriffo no lo sceriffo no cioè è geniale beh da un certo punto di vista anche quella potrebbe essere una critica non so se l'hanno fatta secondo me non ci hanno apito una siega ma molto semplicemente un attore ha voluto tornare un altro no probabilmente sì secondo me anche una cosa interessante scusa Dario vai vai no no io in realtà volevo espandere quello che diceva Fede nel senso che come tutti i grandi registi poi in quel periodo Spielberg aveva una fame allucinante basta vedere anche quello che ha fatto condurre che l'ha fatto condulire alla velocità della luce e in un certo senso quello è un protosqualo solo che invece di uno squalo c'è un tizio dentro un camion e il camion è un po' il mare che nasconde il guidatore e anche quello è stato fondativo di un genere anche quello è un monster movie però su quattro ruote però quello che mi è sempre piaciuto dello squalo è come ha sfruttato tutti gli elementi cinematografici per creare l'hype intorno appunto a questo mostrone ha usato la musica perché per me lo squalo non è l'animatrone seppur ormai pupazzone è interessante da vedere contestualizzando però è la musica di John Williams perché quelle due note continue ripetute ispirate a Psycho eccetera è quello lo squalo cioè lo senti l'acqua che si muove magari non c'è un cazzo ma solo quello crea attenzione allo spettatore le espressioni il sudore perché gli attori di fatto non sono belli sono attori proprio della nuova Hollywood con questi nasi storti questi visi sempre sudati tutti i capelli unti tutti proprio provati dall'esperienza e non si nascondono nell'aver paura o il sangue che si mescola all'acqua con quel turbinio cioè tutti gli elementi che formano poi un film la regia la musica il sonoro il montaggio tutto a servizio di uno squalo che poi si esplode nel finale un po' più splatterino tra virgolette perché non splatter per me è film della troma non questa roba qui più gorra è più gore ecco sì un pochino però è bello come ci arrivi perché è cinema puro scusami Davide vai pure no no volevo dire proprio questo a parte da menzionare pure la fotografia nei momenti di quiete veramente questo contrasto da ragazzino terrorizzava perché hai detto bene e ha detto bene Federico da una parte la musica dall'altra l'enfatizzazione della normalità va a creare questo tipo di tensione che è ciò che noi proviamo realmente nella vita cioè onestamente viviamo in Italia sarà difficile incontrare uno squalo ma la paura tutta questa costruzione proprio supportata dal fatto che lo squalo lo vedi poco in azione è ciò che arriva allo spettatore poi anche il discorso legato agli epigoni vari registi che hanno provato a fare lo stesso con mostri in particolar modo squali molto semplice all'epoca comunque l'animatrone era avanguardia e lo si nascondeva lo stesso si va avanti si arriva alla computer grafica e quindi si esagera e si punta solo su quello quindi è l'esatto l'esatta definizione di necessità che diviene virtù e non l'ha capito molto il cinema il film perché ciò che fa power non è il momento in cui lo squalo arriva perché sei morto no no ovviamente il momento in cui dovesse capitarti malauguratamente di ritrovarti di fronte allo squalo è un secondo muori salvo eccezioni ecco che scappa lui però è un secondo cioè non è quello ovviamente parlavamo di Hitchcock è lo stesso discorso l'avete visto il trailer il sequel di quello che in Italia si chiama shark il primo squalo che in realtà è meg io ti giuro io ho visto il trailer ma non me ne frega niente a me mi fa male perché è di Ben Wheatley è uno dei miei registi preferiti che dà Killist ai disertori Fielding England tutto il cinema indipendente più assurdo ha provato l'ultimo è bellissimo a farlo e mi cassa una lira è rifinito a fare Meg 2 cazzo è un regista inglese indipendente è cresciuto con la scuola insieme a Edgar Wright amici dal piccino è rifinito a fare Meg 2 perché nessuno ha sui film meravigliosi tranne il remake di Rebecca fatto Rebecca di Hitchcock fatto per Netflix che lo lascerei dov'è insomma la marchetta per me l'aveva già fatta invece ora vai ci risiamo questo Meg 2 ma mi fa paura cioè questi squali che non sono più squali sembra sembra di dover combattere con Godzilla perché in realtà l'hanno fatti diventare da si chiamavano Animal Revenge che era un altro genere infatti fecero anche il famoso velo italiano che scappavano tutti gli animali dallo zocca fu tutto qualcosa che era veramente violentissimo e fecero piragna giodante piragna paura Cameron che poi in realtà di assoniti cioè si spostarono cercavano però di rimanere nel suo invece piano piano ormai non sono più Animal Revenge o come si diceva sono monster movie cioè li hanno trasformati in Godzilla cioè li hanno trasformati in un altro genere però non hanno capito anche lì che Godzilla non è il centro della storia continuano a non capirlo e quindi ha capito Bright però Bright Bright capisce tutto in un certo senso no scusami edu 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 vogliamo parlare di Godzilla che cavolavoro quello perché loro degli orientali sui mostroni ne parliamo io sono riuscito a vedere Shin Ultraman sono riuscito a vedere a me è piaciuto tanto però non so se vi garba e poi dove esci in Kamen Rider insomma perché ora li fanno tutti quindi godo dicevi Nick prima no dicevo che nel trailer si ve dice bene Federico io non so se lui l'ha visto il trailer ma mi pare di capire di no nel trailer si vede è venuto scritto WM Whitley ma è preso il cervello si vede uno dei megalodonti che esce dall'acqua saltando e si mangia un T-Rex ah che bello dai ragazzi e c'è una scena con Jason Statham che c'è questo squalo uno squalo che mangia un T-Rex che gli arriva addosso e lui lo ferma col tacco della scalpa ma sembra un po' quella discesa all'inferno che fece l'action americano dagli anni 70 primi anni 80 sempre di più se pensate il primo Rambo che lui è molto serio realistico anche nelle trappole che fa al terzo che fa un salto da una bua e si attacca nell'eliottero che nemmeno se fosse stato lomo swinga cioè vola sapiccia saluta è una ossa spettavolare cioè per capire cioè la discesa in realtà è quella è sempre quella è una deriva è una deriva cioè da Rocky che racconta un film Rocky sta allora è perfetto per questa discesa che fanno sempre verso la massa proprio da non insegnare cioè da Rocky che è un film comunque se vogliamo in un certo senso dal classico film alla Frank Capra con il sogno americano una crescita che può piacere o meno ma è un bel film comunque un caldo assoluto la discesa è rapida cioè specialmente dei primi quattro poi non parliamo dei rientri perché poi uno era anche buono ma cioè si va alla fine con lui che va a ripenire a portare tronchi sul gruppone a 4.000 metri sulla Siberia che cioè non si apisce ma ha fatto arrivarci e come scenderà mai cioè queste osse vittime diventa tutto un'esasperazione e lo squalo è stato proprio esasperato appunto con la confusione grafica prima costava un pochino di più quindi li tenevano comunque nascosti sti squali poi negli ultimi 20 anni sti squali cioè da S1 poi lo squalo a due teste ho visto lo squalo a tre teste lo squalo a cinque teste ma guarda anche Sharknado ma non hanno però quella voglia cheap né quella voglia veramente narrativa di raccontare qualcosa che sia qualcosa è tutto abbozzato regia sceneggiatura recitazione proprio messo a merda volutamente per un pubblico che vuole quello è quello che mi dispiace cioè per me è l'asylum che tanti amano per me è la distruzione in realtà del cinema veramente fatto con due lire perché c'era gente che lo faceva e ti ci potevi divertire e ormai invece è tutto sciatto cioè è tutto sciatto in questi film qui di serie Z non c'hanno più perché hanno puntato sul trash che poi non è neanche trash ma non è trash è il cinema orribile cioè il trash è Toxic Avenger cioè quella è roba da non guardare cioè quella è roba da non sponsorizzare cioè proprio e quindi Spielberg chiaramente l'uccelli per me mi fa lo stesso livello io in un certo senso avendo essendo un'altra generazione 50 anni da piccino l'uccelli lo vedevo spesso alla televisione mi inquietò in una maniera mostruosa anche quello sugli 8-10 anni cioè io che vivo a Livorno Dario lo sa qui c'è l'invasione ora dei gabbiani in questo periodo c'è gabbiani che mi guardano in giardino su piccioni da tutte le parti corvi tutti che guardano verso casa mia ma di dacci del pane poi i gabbiani io l'ho sempre trovati terribilmente inquietanti ma guarda qui i gabbiani se non fanno veloce gli altri piccioni gli altri uccelli sono morti cioè quindi quando arrivano poi tutti i gabbiani da sopra hanno più paura agli altri uccelli quindi anche voi ce l'avete perché io a Roma con tutta la monnezza che c'è poi la monnezza anche a Livorno ma poi c'è ragione via Livorno e Gabbiani ce n'è una a metro cioè se ti cammini Livorno è vuota di notte a qualunque ora te cammini per piazza Cavour e mezzanotte non c'è nessuno ma tranquillo quei 15 gabbiani che spacciano ci sono che ti raccano fra di loro sembrano veramente una comitiva stanno fra di loro se ti sei fatto pure un paio di drink di troppo si comincia a scambiare due chiacchi ma poi sono anche i rosi si girano e ti danno certe botte che ti spaccano le braccia guarda che da me è una cosa pazzesca perché adesso sono anni che ormai verso questo periodo è un'invasione e la cosa assurda è che la prima volta io mi sono spaventato perché fanno diversi tipo la prima notte senti io penserei ma che cazzo è ho detto ma c'è qualcuno che sta male ma fanno così urlano ecco questo per un bel film questo pezzo sarebbe super horror farebbe veramente paura ragazzi parliamo di gabbiani per un'altra ora vi prego comunque quello che volevo dire è che secondo me lo squalo gioca su un bisogno fondamentale dell'essere umano cioè qual è la differenza tra lo squalo e altri film sui mostri è che i mostri non esistono gli squali sì e infatti prendo uno squalo che è mostruoso non è neanche così plausibile che esista uno squalo così aggressivo che si spinge così così vicino agli esseri umani però il punto è che la paura sta lì nel fatto che plausibile o meno è comunque uno squalo poi la gente all'epoca soprattutto era particolarmente ignorante sul comportamento di un po' tutti gli animali ma di gli squali soprattutto sì comunque non è che si andava magari a meno che non sei super appassionato non è che ti vai a informare su quali sono i comportamenti degli squali quindi la paura anche odierna nei confronti degli squali si deve quasi esclusivamente a questo film che tra l'altro è tratto dal romanzo di Benchley che è un po' diverso fra anche quello io consiglio di leggere perché è molto bello a me sì io lo lessi che ero molto più giovane a me era piaciuto il film è uno di quei casi in cui il film è migliore rispetto al libro però comunque col libro ha in comune alcuni tratti della storia però poi molte cose sono completamente diverse quello che ha fatto lo squalo è stato incredibile dal punto di vista produttivo cioè il concetto di blockbuster estivo come lo conosciamo oggi si è creato lì cioè anche il fatto di anche se non sbaglio fu uno dei primi film se non forse il primo che venne mandato in sala con già un numero di sale predefinite perché all'epoca un film usciva si parla di blockbuster eh sì sì è da lì no ma è proprio a livello produttivo il fatto è che i film avevano il sale poi lo estendevano invece prenotavano già delle sale e mettevano quello fu un film che ebbe perché c'è c'ho un bel libro mi ricordo messi a Malagenesi dove ti spiega in realtà quello è un film che non era partito per essere un film come posso dire in realtà poi così costoso di prima visione doveva essere il film di serie B di quello della nuova Hollywood che veniva prodotto e buttiamolo d'estate e speriamo a buono ok questa era un po' la logica quando però Variety i vari giornali sono arrivati hanno iniziato a fare la campagna pubblicitaria quindi mostrato gli attori mostrato alcune parti della Pina le cose che facevano prima che ora su internet vengono fatte in maniera molto più diretta ma che lì sono state fatte per un anno cioè la pubblicità a un certo punto c'era un tale voglia come si dice ora l'Ipes si era alzato una tale richiesta già che questi hanno preso le sale perché era già chiaro che avesse successo e da lì nasce il detto blockbuster il film blockbuster è quello che si è già chiaro che faccia successo quindi anche un film come Godzilla che pur non lo fece successo quello di Emerick perché fece un flop in realtà a livello commerciale e di tutto però è un blockbuster non li puoi negare questo anche se non ha avuto successo perché il blockbuster non dipende dal successo che ha ma dall'investimento proporzionale che viene dato all'uscita cioè un film come Black Widow è un blockbuster se poi non incassa come pensano loro il resto è un blockbuster adesso blockbuster è anche siano di un film che ha un budget di un certo tipo budget elevato perché c'ha un film come Killers of the Flower Moon comunque è un blockbuster anche The Irishman comunque però gli mancano questi film hanno un'attenzione diversa cioè il blockbuster però solitamente viene atteso e viene considerato come il film per tutti cioè il film per vederlo cioè in realtà Killers of the Flower è un film comunque di produzione al di là della produzione dei soldi veri ma la produzione ciò che parte l'idea è indipendente quindi è una cosa molto particolare perché anche un film come Cloud Atlas che ha costato 120 milioni di dollari delle Vachowski e Tom White non è un blockbuster solo perché ha costato 120 milioni perché la produzione è completamente lì indipendente ma completamente se lo sono pagati i Vachowski tutto gli attori no il lancio ecco Maverick è il classico esempio di blockbuster pompato e rilanciato era impossibile che non facessi successo la definizione di blockbuster fa soprattutto riferimento alle scelte produttive pubblicitarie cioè non è il budget e basta ovviamente ma il libro che ci davi prima no chiedo il libro che ci davi prima era di una catena di una collana il libro che ci davi prima perché io non avevo letto uno che ho ritrovato adesso che è Psycho e Psycho Genesi Analisi e filiazioni del thriller più famoso della storia del cinema che è una collana di Zanighelli forse era quello forse è quello c'è Genesi di mezzo probabilmente dato che Mataius dice bisogna dire però che a causa bisogna dire che però a causa del film c'è stata l'ondata di paura alla scuola emotivata Mataius ma quello l'ha detto anche Spielberg che si sente in colpa ma che cazzo dice no ma chi se ne frega tanto non si sente minimamente in colpa c'è gli ha detto di dirlo a lui non gliene frega un cazzo degli squali io faccio un film scusate scusate chiedo scusa a tutti se io povero rincoglionito Federico a dieci anni piglio paura degli squali il film ha funzionato ma cosa volete ma poi non è colpa del film ma poi non è che è partita nel mondo una caccia allo squalo e quindi abbiamo distinghiamo gli squali cioè si dovrebbe preoccupare la gente più delle balene che li vanno a cacciare davvero non ci fanno firme è vero cosa cazzo gliene frega dello squalo anche forse non sarebbe colpa di Spielberg lo stesso infatti comunque è un essere umano rispose a questo a dovere ma no ma poi sullo squalo è fantastico perché è diverso cioè se te comunque metti uomo contro uomo ci può essere uno scontro che poi è inutile è stupido lo stesso ma cazzo ma che metti l'uomo contro lo squalo cioè come se lo squalo fosse quello del film che ti guarda lo squalo su dai cazzi suoi nel suo mare al limite se te che gli vai rompere i coglioni questa è la base numero uno perché poi è questo in realtà lui sta nel suo habitat e te non ci vai e chi va a cacciare gli squali credo che sia illegale lo spero insomma ma rega ma scrivono in chat gli squali si stanno estingendo per la caccia sì ma non è colpa del film di Spielberg ma Spielberg no rega si sta spingendo tutto per la caccia io aggiungo non ha fatto il panda assassino Spielberg io aggiungo nessuno ha fatto panda assassini né volpi del deserto assassine che però stanno facciamolo subito subito vai tanto Victor può doppiare tutti gli animali esatto ormai è rodato no vabbè in realtà come il solito verso ci sono fenomeni fenomeni del genere per esempio quando uscì in Nemo la gente infestò le barriere coralline per la caccia di squali pagliaccio purtroppo secondo me a parte questo è colpa del pubblico cioè il pubblico è bue quando vede Nemo oddio che carini andiamo a devastare la barriere corallina non è colpa del regista né della Pixar anche qui cioè non è Vanna Marchi non è che ti ha venduto qualcosa che un barriere pesci pagliaccio scusate uno squali pagliaccio no ma stai facendo tutto da solo cioè non è che avesse fatto un documentario una guida su come uccidere gli squali avrei capito però questo ha fatto un film che poi lo squalo ripeto è crudele è il male quelle ripare ma rimane sempre nel suo habitat cioè la scena per me comunque che di cui si parlava se si parlava di tensione di non vedere la scena che dura qualche minuto che ti lascia lì con le inquadrature fisse è quella del bambino è la perfezione di come si può utilizzare quella tensione lì che Spielberg forse poi ha dimenticato perché non credo l'abbia mai più utilizzata in un suo film veramente così alta ma anche così sanguinolento non è che è stato più dopo lo tanto forse in Munich forse in Munich però è una violenza differente è molto reale è politica ovviamente non c'è sense of wonder come c'è nello squalo no però il momento in cui devono entrare di notte no ma la tensione la usa la tensione c'è anche in film più commedie che commedie per modo di dire sono storie come prova a prendermi è pieno di tensione in un certo senso ma anche con Wall Street in quei bravi ragazzi è più recente c'è in serie si quei bravi ragazzi ormai sono andato via io non penso solo a Scorsese sono solo Scorsese beh ho detto squali pagliaccio ho visto 560 volte i film di Scorsese altre due volte al giorno per il suo memoria ormai mi sono sono diventato come Silence ci sto andando invece di portare a giro il verbo di Cristo in Giappone ora vado per Scorsese io vado lì vestito col saio Scorsese nei villaggini a fammi picchiare ci vado io Silence lo faccio io ma sicuramente avresti recitato meglio di Garfield no Garfield fa il suo in quel film si ovvio solo in quel film il problema di Garfield è che sembra un modello di Calvin Klein anche quando fa il monaco gesuita però non è colpa sua è la sua faccia si si vabbè il problema di Garfield è che ci poteva essere e chiunque altro però va bene lo stesso perché è stato più bravo a Thumb Driver cioè perché non hanno invertito le parti fammi tenere lì a Thumb Driver e fammi scomparire a metà film perché vendevate più lo so vendeva ha fatto un flop no no ovvio negli intenti chiaramente cioè al cinema la gente si voleva veramente silenziare nel vero senso della parola silenziate il film che non capivano perché era così stranamente lento è silenzioso il film cazzo sei a vedere un film si chiama Silence cosa pensavi a me è piaciuto un sacco bellissimo ma poi anche la storia produttiva che era a 27 anni che doveva farlo non riusciva mai a farlo ma poi sicuramente poi ne parlerò sicuramente meglio di Kundun che era l'altro sua opera diciamo religiosa ma sicuramente peggio dell'ultima tentazione di Cristo eh sì diciamo la trilogia religiosa poi non può fare un altro ma sai io di Scorzese non si butta via nulla te mandamelo il film ma fa mi sono garbati meno io me li guardo tanto cioè alla fine è un film come Il colore dei soldi o altra roba che comunque per me è minore di lui comunque me ne facessero otto oggi è roba da ingino chiacchissi davanti perché come quello che dicevo prima il film più brutto di Scorzese equivale ad un film bello di tanti altri registi ma si parla probabilmente di uno dei migliori cento registi ameriani di tutti i tempi che in America ce ne sono stati talmente tanti che poi se li fa contare perché sono tanti un centinaio ci arrivi dai come no ma per me per me è fra i primi venti però questa è una persona mia grazie a tutti i primi venti grazie a tutti i primi venti